Musica Prendiamo spunto da una notizia che è uscita qualche giorno fa sui giornali. Jennifer Aniston, conoscitissima attrice, ha dichiarato la dislessia. Pensavo di essere stupida perché non riuscivo a trattenere niente. È solo uno spunto per parlare di una difficoltà, una difficoltà che colpisce tante persone nel mondo, non solo dello spettacolo, ma anche nel mondo di tutti i giorni. E noi così partiamo da questa perché vogliamo raccontarvi che a Cremona c'è la sede cremonese dell'Associazione Italiana Dislessia. Allora do il benvenuto a Michela Bettinelli e Alessandro Costa. Buongiorno e benvenuti. Intanto Michela, che cos'è la dislessia? La dislessia è una neurovarietà. Adesso in questo periodo diciamo che grazie alla formazione e all'informazione che viene fatta proprio dall'Associazione Italiana Dislessia ne sentiamo parlare continuamente. Purtroppo molto spesso viene sottovalutato come problema, nel senso viene visto come non problema. Molti ragazzi vengono diagnosticati tardi, per questo proprio l'Associazione è iniziata con una serie di screening, addirittura partendo dalle scuole materne, poi dalla scuola primaria, per individuare quelli che sono i segni precoci di questa difficoltà, che poi non è altro che una neurovarietà. Ecco, se magari gli insegnanti, se chi vive nel mondo della scuola conosce sicuramente questo problema, è aggiornato su questo problema, qual è invece la situazione delle famiglie? Cioè i genitori... Il genitore... Allora, ci troviamo di fronte a diversi gruppi di genitori, perché alcuni genitori sono informati, nel senso che grazie anche a internet e a tutta una serie di informazioni ormai reperibili, pressoché ovunque, c'è il genitore informato, c'è il genitore invece che esce dalla neuropsichiatria ed è spaventato, è un po' il compito, nonostante le rassicurazioni dai clinici, però dopo si esce con una diagnosi in mano e dopo che ho la diagnosi cosa faccio? Cosa faccio col mio bambino? Come posso aiutarlo? Una diagnosi che di solito parte da un'indicazione della scuola proprio. A volte sì, a volte no, dipende. A volte la scuola segnala ai genitori che ci sono delle difficoltà nell'apprendimento della lettoscrittura o difficoltà nella lettura dei numeri o nell'attenzione, oppure può partire da disturbi del linguaggio, quindi già nella scuola materna ci sono sempre gli insegnanti che segnalano questa difficoltà nel linguaggio, o è la famiglia stessa che se ne accorge. Alla scuola primaria, perché non legge, non scrive come tutti gli altri, paragonandosi, paragonando il proprio bambino con le attività che fanno gli altri ragazzini e questo diventa frustrante. E spesso si rivolgono quindi a Alessandro a voi? Certo, vengono da noi, chiedono come possono... Dove è intanto la vostra sede? Allora la nostra sede si trova su Viale Trento Trieste, numero 35, dove c'è il parco del vecchio passeggio. Dopo quello del Pogliettoria. Sì, ancora. Per fortuna c'è ancora tutto a posto. All'interno del parco del vecchio passeggio. Quindi vengono da voi e voi cosa fa? Noi, allora il nostro programma, diciamo, chiamiamolo così, si affida a portare questi ragazzini a una, come si può definire? Autonomia. Autonomia, esatto. Noi cerchiamo di portare i ragazzi a un'autonomia scolastica, nel senso cerchiamo di dargli maggior, diciamo, con strumenti, capacità, cerchiamo di trovare qual è il loro punto forte. Molte volte durante la scuola si trovano costantemente costretti a giocare con i punti deboli. Noi cerchiamo di valorizzare questi punti forti, quindi cercare di trovargli delle strategie adatte a loro per riuscire in quello che non riescono. Abbiamo visto intanto le immagini di uno spot dove c'erano bambini, è bellissimo questo spot, che interpretano personaggi famosi che avevano realmente la dislessia. Questo sì è, diciamo che è stato uno spunto per aiutare le famiglie a capire che, tra virgolette, si sopravvive, si cresce con la dislessia. È ovvio che è un disturbo, una difficoltà che rimane. Che va riconosciuta. Io, così, scorrendo un po', quelli che sono i nomi certi, i nomi famosi, al di là di Jennifer Aniston, pensando agli attori, ho trovato WP Goldberg, Steve McQueen, Anthony Hopkins, Chiano Reeves, ma poi anche personaggi, appunto, come Leonardo da Vinci, si diceva che fosse dislessico. Questo è un messaggio importante, ma proprio, per come diceva Alessandro, noi dobbiamo giocare sui loro punti di forza. La sede di Cremona, da cui presidente era la signora Elena Dioli, che è anche membro del diritto nazionale, segue circa 300 famiglie. E quindi, cerchiamo di, con riunioni mensili, di aiutare queste famiglie a capire veramente quello che hanno questi ragazzini, ma soprattutto, come diceva proprio Alessandro, a valorizzare quelli che sono i loro punti di forza, perché è da questi che dobbiamo partire. Se partiamo da un punto di forza, riusciamo poi ad alzare l'autostima e a lavorare su quelli invece che sono i punti un pochettino più deboli. Allora, noi abbiamo preparato anche delle clip. Quella che stavamo proprio per vedere pochi istanti fa è un filmato che è stato realizzato con la collaborazione anche della nostra emittente con Michela Bettinelli per cercare di aiutare i bambini a comprendere meglio il Museo Archeologico di Cremona, che è stato un filmato molto particolare. Raccontalo tu, Michela. Beh, il filmato è nato da un'iniziativa che è diarro e proprio dimostra l'accessibilità. Tutte le informazioni devono essere accessibili. Noi parliamo come associazione e portiamo avanti l'idea della didattica inclusiva. Quindi la didattica inclusiva vuol dire che quando io produco qualcosa devo dare un'informazione e devo renderla accessibile a tutti. Se io ho una modalità didattica che va bene per il DSA, va bene per tutti, non dimentico nessuno. e molto spesso però nei musei ci dimentichiamo che ci sono questi pannelli dove c'è da leggere. E allora vediamolo, sentiamolo un attimo. Ciao, sono Matteo, sono un apprendista archeologo. Lo accompagnerò dentro la visita del museo. E questo piccolo apprendista archeologo quindi spiega a voce e non con parole scritte. La maggioranza della popolazione romana viveva nelle insule che erano grandi caseggiati a tre o quattro piani divisi in appartamenti. E questo è proprio un esempio di come cercare di... Dovete sapere che le famiglie più ricche vivono la casa propria come oggi le belle palazzi. Domus è il termine latino che indica la casa di città della famiglia benestante. È un modo alternativo. È un'abitazione di prestigio formata da diversi ambienti. È un modo veramente che non esclude nessuno. Chi può leggere, legge. Chi può ascoltare, ascolta. Chi vuole utilizzare gli occhi per guardare, imparare dalle immagini, impara dalle immagini. Insomma, multisensoriale. E devo dire che è stato un gran bel lavoro ed è stato... Mi sta molto a cuore. Un lavoro magari da riproporre anche in altre realtà. Non solo qui. Ci hai portato anche due clip per cercare di spiegare come ragione quali sono le difficoltà di un bambino con questo tipo appunto di problema. Vediamo intanto la prima, poi ce la spieghi. Clotter, hai sentito la domanda? Qual è il fiume che attraversa pareggi? Sì, come si chiama questo fiume? Allora, Clotter... Eh... Ah? Soncia! Clotter! Sì, maestra. Non mi hai detto che sei stato sul Batomush con i tuoi genitori? Sì, maestra. E dove navigano i Batomush? Beh, sulla Senna. Dai, fila via. E questo è proprio un esempio di come porre una domanda in due modi diversi, una la risposta e l'altra no. Di una buona prassi, perché questo insegnante ha fatto due cose eccellenti. Al di là di porre la domanda, il ragazzino non risponde e guarda solo l'oroloso sperando che la campanella lo salvi, fa uscire la classe ma non lo lascia andare via con la sensazione di aver fallito, gli propone la domanda in un modo diverso più personale, più vicino alle sue capacità e lo fa arrivare alla risposta ma non gli ha detto la risposta, gli ha dato un'alternativa. E' quello che facciamo noi tutti i giorni al doposcuola che abbiamo. Non diamo risposte ma insegniamo a trovare strategie. Questo è un filmato che si usa molto in formazione per far capire come il cambiare la domanda a volte cambia, cambia. cambia. Vediamo anche la seconda parte della clip. Allora, qual è il fiume che attraversa Parigi? Ma senti, ascolta, il fiume che attraversa Parigi. non mi hai detto che sei stato sul batomusco il tuo genitore? La Senna? Sì! 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 E questo proprio anche sintetizza un po' quello che prova questo bambino quello che ha nella sua testa. È la difficoltà del recupero dell'informazione che sa perché è una nozione che sa assolutamente. Lui l'ha recuperata però visivamente. L'ha recuperata visivamente e il fatto di andare sulla cicletta sembra una stupidata ma in realtà sono i tempi lunghi di recupero di queste informazioni e quindi è tra l'altro è un film che non parla di dislessia però è un esempio assolutamente calzante di come funziona la testa di un ragazzino che ha questo tipo di difficoltà. È un bel lavoro è un bel lavoro ma una volta che come ha detto Alessandro riescono ad acquisire la loro autonomia scolastica riescono poi ad arrivare a proiettarsi nel futuro ed acquisire anche un'autonomia nella vita di tutti i giorni. Ci sono cose da non fare quando si riconosce la dislessia? Ci sono cose da non fare tante innanzitutto colpevolizzarsi perché per prima cosa i genitori molto spesso arrivano da noi e dicono se l'avessi saputo prima non l'avrei trattato così male un'altra cosa da non fare Alessandro potrebbe essere quella di ce ne sono talmente tante che è difficile cercarne una ma penso che sia una cosa generica ma anche nelle persone tra virgolette normali ci sono tante cose da evitare ma anche semplicemente il fatto di continuare a rincorrere un obiettivo quando non si conosce qual è la strada quella soprattutto secondo me è una cosa da evitare oggi però la tecnologia aiuta e ovviamente non chiediamo al ragazzino con disturbo specifico di leggere ad alta voce a meno che non sia lui a chiederlo rispettiamo i suoi tempi perché è una forma di rispetto anche qua se ti faccio una domanda attendo che tu mi dia la risposta è proprio una forma di rispetto sto rispettando i tempi di cui necessiti per arrivare a recuperare l'informazione e soprattutto veramente non togliere troppo tempo alle cose in cui lui va bene che lui fa meglio in cui si sente soddisfatto in cui la sua autostima ha le stelle perché se no rischiamo di di perderli di perdere tutta la non l'attenzione la passione che dovrebbero avere nello studio la curiosità abbiamo un'ultima clip che proprio dimostra mostra come la difficoltà della lettura vediamo se dalla regia possono possono mandarle in onda poi magari Michela spieghiamo anche questa anzi magari intanto ne parliamo perché so che l'audio arriva in un secondo tempo chiedeva appunto la tecnologia può aiutare in questo senso ecco qua qui si vedono delle parole incomprensibili è come esatto è come in realtà legge più o meno legge un ragazzino con dislessia probabilmente risulterà difficile leggere queste poche righe qualcuno si appellerà agli errori di stampa effettivamente abbiamo sostituito qualche lettera o messo qualcosa aggiunto altro e unito qualche parola in realtà state provando artificialmente quello che abitualmente provano i ragazzi dislessici nel leggere questo è esattamente quello che provano i nostri ragazzini quando vengono inseriti e inoltrati e spinti nel mondo della sintesi vocale questa è una voce un po' vecchia perché è un esempio oggi ci sono voci magari più piacevoli ci sono voci più piacevoli ma non è facile imparare a utilizzare la sintesi vocale è una possibile soluzione ma va insegnata e va guidata altrimenti diciamo che la sintesi vocale non è la soluzione alla dislessia è imparare usare il proprio cervello è la soluzione alla dislessia questa è la cosa più importante esatto è un mezzo è uno strumento Giovanni mi stavo domandando in realtà dopo aver visto questi filmati molto belli e emblematici ma in realtà quante maestre quanti insegnanti ci sono come quella che abbiamo visto nello spot questa è una domanda io arrivo per mettere in difficoltà esatto difficile no in realtà devo dire che l'associazione in questi ultimi due mesi sta fornendo una formazione gratuita ad altissimo livello su tutta la provincia quindi siamo partiti a novembre con il professor Stella che è venuto a fare la giornata d'apertura adesso ci sarà la formazione per ogni singola materia quindi diciamo che c'è una risposta c'è questa esigenza della scuola a capire meglio come aiutare il problema diciamo è un po' la nostra burocrazia italiana siamo poco flessibili quando in realtà c'è solo da aiutare un bambino quindi diciamo ci sono due figure per in qualche modo aiutare il bambino genitori e insegnanti genitori fanno quello che possono gli insegnanti sono un po' bloccati dalla burocrazia quindi insomma ancora non è facilissima la vita esatto poi ci sono no non è facilissima per nulla poi però ci sono e si stanno formando delle figure di riferimento che fanno anche come fa l'associazione stessa da ponte tra famiglia e scuola perché molto spesso anche l'insegnante ha bisogno di parlare con qualcuno che conosca bene la didattica perché parlare solo con il genitore magari non va bene o c'è il genitore che si sente disagio di fronte all'insegnante c'è bisogno di fare questo ponte ed è un po' il lavoro dell'associazione unire tenere forte questo contatto e lavorare tutti nella stessa direzione per aiutare il ragazzino ad imparare e comunque abbiamo avete già ribadito non è facile riconoscere magari per tutti più facile forse con la discalculia la discalculia è un argomento molto delicato su cui potremmo parlare delle ore è più facile cioè non è facile bisogna tenere gli occhi aperti nel senso che non possiamo scambiare tutto per dislessia dobbiamo rispettare i tempi di apprendimento perché adesso ormai la prima era sempre molto veloci e quindi magari può capitare che qualcuno rimanga indietro aspettiamo un attimo prima di dire diamogli il tempo di è ovvio che ci sono dei segnali preditori che possono farci sospettare che ci sia un disturbo d'apprendimento o quantomeno delle difficoltà nella letto scrittura prima si interviene meglio è il progetto che aveva fatto l'associazione si chiamava non è mai troppo presto che richiama non è mai troppo tardi esatto ma l'intervento prima viene fatto meglio è prima riusciamo a dare degli strumenti benissimo a dare degli strumenti a dare degli strumenti